buongiorno a tutti e buon Natale dalla Puglia a Gargano da noi finalmente è arrivato un pacco tanto atteso da noi e anche da voi che ce l'avete consigliati in tanti più di una volta un vostro consiglio e finalmente è arrivato vediamo cos'è ora lo tagliamo lo spacchettiamo ecco qua dai rompio tutto mimo e voilà ecco qua appena arrivato appena preso il pin point ecco qua non è della gara però no però purtroppo le cose si fanno piano piano appena abbiamo l'opportunità di qualche cosa la compriamo abbiamo preso questi pin point l'abbiamo pagato 22,90 euro su eb se siete interessati anche vi lascio il link in descrizione ma noi dobbiamo ancora provarlo adesso lo apriamo e vediamo com'è la marca è GP pointer GP pointer si apriamolo ecco gli arco ecco qua guarda il mimo a tre conore guarda eccolo qua anche questo che si attacca alla cintura ecco qua se si riesce a vedere beh diciamo che la forma è come quella del gallo è il pin point della carta vediamo qua non è nemmeno tanto pesante ecco qua anche l'elastico si l'elastico per attaccare la cintura qui però è uscito già come avete visto poco fa la batteria abbiamo letto che va a questa noi abbiamo comprato questa qui della sui 1,50 euro adesso abbiamo preso questo poi domani lo proveremo e vi diremo come va adesso siamo partiti con questo poi più avanti piano piano come se c'è qualche altra opportunità ci prenderemo anche una piastra papà anche ha visto un po' una piastra della nail hunter per il galletto nostro i 150 però quando ci sarà la possibilità economica se il governo ci comincia ad aiutare facciamo qualche cruise ok poi metteremo questo qua lo mettiamo ora la batteria vediamo qui e poi domani lo proviamo qui vicino casa nostra nel terreno come va e vi sapremo dire meglio se è buono o no ecco la batteria l'abbiamo messa semplice semplice funziona ecco anche la lucina che si è accesa proviamo con un anello d'oro proviamo ad avvantanare un po' questa distanza su questa è la distanza proviamo lateralmente come c'è qui sì 360 gradi suona sì perfetto perfetto funziona funziona domani lo proveremo sul campo e vi faremo sapere sì grazie 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 grazie